ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono fresca potente oggi siamo su evi e se si carica la pagina post secondo me sta dormendo mettiamoci un ciao meno si sveglia raga ciao siamo con un ciao raga tanto dio raga la mia l no nel mio computer non va tanto bene i tanto dio i hanno sono italiano risponde ok raga sto dalle dalle 5 a fare questo video perché ci ho messo due ore a farlo poi raga guarda che casino raga io faccio un casino quando devo montare i video avete pazienza però il video ragazzi deve fare lo stesso ecco qui raga ok adesso passiamo alle cose facili ti piace freccia freccia raga io da adesso mi chiamo freccia no freccia potente freccia raga sono io io anche io sono io what the fuck ti piaccio no 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 raga io sono fidanzato sono bella sono carina aspettiamoci così se no capisce di più sono i sono i da liano questa qui non capisce cosa vediamo se mi risponde raga io la mia scatastia sembra è capore con pure come senza pessimi cosa io non ti amo non io ho sbagliato e allora niente niente cosa facciamo? chattiamo? parliamo? parliamo parliamo più tutto a posto? io li metto solo qui ci devi pensare raga quanti? raga su Siri devono fare una cosa tipo Whatsapp che ti fa che ti fa la scritta è più bello se no perdi meno tempo e cazzo e che cazzo raga mi chiude sempre la pagina qui non ho capito il perché quanti anni raga sto sto da due ore a registrare hi perché ho fatto già due due già due video che sono durati dieci minuti non te lo dico dimmi dimmi immediatamente raga faccio questo video raga perché i miei occhi stanno chiedendo pietà la pietà proprio veramente perché io dimmi Arkinator è il genio del web ah si ah conosce Arkinator ah si santo dio raga immagino raga mi sto incazzando chi è ah ah stupido ah stupido stronz 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 no raga io faccio io faccio così ogni lo faccio così voglio tentare cosa sì lo farò sempre così come va bene si capisce più come la parola a caso che che così raga bene cosa stai facendo ora chato io non so scrivere chato ora la faccio a caso chato si come si chiama si come si chiama francesco forse mi chiede come mi chiamo forse francesco 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 io martina ok 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 un momento ti piace freccia potente potente ho sbagliato te voglio sapere se è il 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 ragazzi il tuo idolo voglio saperlo perché mi ha detto solo idolo 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 più idolo più è il tuo idolo ovvero ti piace certo grazie mettiamoci grazie raga sono contento però sei una robot grazie come ti piani chi non lo sa francesco raga francesco francesco ecco qui ciao francesco quanti anni hai 12 sei piccola no 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 strunza sennò capisce di più raga l'ultima domanda è seria ti piace pes raga 2012 perché io tengo la 2012 2000 0 2600 raga 2012 strunza io la odio raga meno male che non ci gioco più strunza raga raga a proposito a proposito prima di concludere raga domani non ci sarà il video e anche venerdì ci sarà sabato perché ho un po' di impegni giovedì e venerdì quindi ragazzi state tranquilli farò lo stesso video non sono morto altrettanto allora quale 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 è il tuo 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 personaggio l'ultima domanda perché lo voglio sapere perché lo voglio sapere preferito perché il mio è fresciapotente preferito perché il mio è fresciapotente nessuno bravo dove sta il bar bravo bravo ok raga io posso concludere qui questo episodio di evie spero che questo video se vi piace una domanda un mi piace anche qualche commento ovviamente se non siete ancora riusciti iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi qui